No, non ho ricevuto nessuna telefonata da parte di nessun club, queste cose le gestisce ovviamente il mio agente, chiamiamolo così, però sinceramente non ho ricevuto niente e non voglio sentire niente che sia extra Monza in questo momento perché io sono concentratissimo su queste cinque partite, dobbiamo pensare a finire bene e il focus deve essere sempre la squadra, credetemi non sono parole retoriche ma sono parole molto sincere, io non voglio distrazioni in questo momento, voglio che sia fatta bene questo finale di stagione, fatta alla grande come stiamo facendo perché stiamo facendo qualcosa di magico e vorrei che sia qualcosa di storico, entrare nelle prime dieci sarebbe davvero qualcosa di unico.